Siamo a Shibuya e c'è una live con il cane che balla Questo è anche molto bravo Da cosa stasera si vede la t-box che è lì però la vediamo di schiena qua e il cane balla Ma secondo voi sarà un caso che per andare da Hachiko per Hachiko vuol dire 8 mia prende l'uscita 8 ma qui c'è proprio anche ah è bellissima questa cosa ha messo ha messo il gatto ha messo il gatto sotto il cane oh mio dio è bellissima questo signore qua in pratica ha appena messo quella sottina lì sotto la strata di Hachiko poi ha messo il gatto c'è un tizio con il mantello che tira due affari e adesso non riesco riesco a sottolineare che diavolo stia facendo sto tizio che via crossing va che casino guarda come corrono no non voglio bastare corrono corrono vedete che vi sciaccano che è già rosso e adesso adesso attraversiamo anche noi c'è poca gente se andiamo a vedere rispetto al solito va ad essere sabato questo crossing guia crossing che è abbastanza tranquillo c'è 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 il star di visual emo giapponese ma è come il commesso però il commesso era un po' vuoto vabbè adesso poi faremo una foto della mise che direi che la serata è finita per noi dobbiamo tornare a casa ma prima diamo un piatto a questi passi che suonano in mezzo a cibuia tutti mi piacciono pure la serata per noi è finita perché purtroppo abbiamo ancora abbiamo un'ora di treno quindi dobbiamo lasciare shibuya anche se non sono ancora le 10 di sera e la vita qua è ancora parecchio animata c'è parecchio casino oh guardate online non 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 non